Allora lo mettiamo qui, spostiamolo un po' qui, ma questa magica è che fanno le stelle, le stelle. 3-1 La Fatina canta, la Simone canta. Dai, su, 3-1 3-1, bene. Eh? Io faccio che il 3 piangi, e il 1 ce l'ha. No. 3-1 La Fatina, chi è? La Fatina. La Fatina. La Fatina. Buono. Se uno lo metto qui, rimangono due. No. 1-2 E poi, devo chiedere il numero 2. Ecco. Mentre il mento qui. Mentre lì. Bravo. Meno 4. Quanto fa 5-4? Quanto fa 5-4? No. No. 1-2 2-2 3-2 3-2 Chi è? Chi è? A te. Ma che è meglio? Tre, poi? Quante, tro? Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Quattro, Quattina? E uno, due, tre, quattro. Quattro, arrivate? Quattina? Cinque, me lo fa? Ci fa uno. Quattro, li metto qui, uno. Poi, prendo il numero uno. E li metto sulla camminita, è giusto. Bim, bim, bim